Prova. Auto si ribalta mentre si dirige verso il centro cittadino di Agropoli. È successo ieri pomeriggio intorno alle 15.30 sul lungomare San Marco. Una Fiat Panda Bianca con all'interno un cittadino non residente si è improvvisamente ribaltata. Illeso il conducente dell'auto che è stato aiutato ad uscire dall'abitacolo, da alcune persone che hanno assistito alla scena. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma da alcune testimonianze di cittadini presenti sul posto pare che l'auto sia sbandata per poi cappottarsi al centro della carreggiata. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili urbani per i rilievi del caso e per ricostruire la giusta dinamica del sinistro stradale.